L'idea è di avere una serie di strumenti che non sono una risposta alla ricerca dei contenuti, ma che sono al contrario un qualcosa che fa scaturire delle domande sui contenuti. Quindi dovrebbe mobilitare l'intera classe alla ricerca di modalità per trovare le risposte. Sotto la superficie dell'acqua c'è un mondo sommerso. È molto più grande del nostro, eppure lo conosciamo poco. È il mondo dei pesci. I video vengono utilizzati già da anni nella didattica. Generalmente venivano però utilizzati documentari che richiedono molto tempo per la visione degli stessi. L'utilizzo invece di clip video molto brevi permette di inserirli come pratica costante, di ripetere le stesse procedure più volte in modo che diventano competenze, ma soprattutto permette di vedere il clip, rivederlo e manipolarlo. La prima videata mi presenta sotto forma di mappa quello che sarà il contenuto dell'intero format. Vi sono in questo caso cinque aree. Nella prima videata posso leggerne i titoli e è già presente la durata degli stessi. Non è presentato in forma sequenziale in quanto è possibile navigarlo a seconda dell'interesse, di una ricerca già avviata o comunque dell'idea della classe. Entro in questo momento nell'area caratteristiche. Anche in questa videata l'organizzazione è a mappa, non in forma sequenziale, proprio per permettere una esplorazione a richiesta. In questo momento potrei anche didatticamente chiedere che cosa pensano di trovare all'interno di questi titoli. Quando scelgo uno dei canali esplorativi vengono visualizzate due icone. La prima mi permette di accedere al video scelto. La seconda invece mi permette di accedere al testo del clip stesso, sempre presente per ogni clip. In questo momento accedo al video. Che cosa vuol dire essere un pesce? Nonostante la varietà, molti pesci hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. Lo scheletro osseo, che è sostenuto dalla spina dorsale. La vescica natatoria, una sacca in cui l'introduzione di aria permette ai pesci di non affondare. Le pinne, che servono per spostarsi e cambiare direzione. Per respirare, i pesci usano le branchie, che risucchiano l'acqua distribuendola su una superficie 10 volte maggiore dell'intera superficie cutanea e ricca di vasi sanguigni. I pesci sono dotati di un particolare sesto senso, grazie alla cosiddetta linea laterale che ne solga per intero il corpo su entrambi i lati. Si tratta di un organo pieno di una sostanza gelatinosa, che avverte i più piccoli spostamenti dell'acqua, permettendo ai pesci di percepire l'ambiente che li circonda. Il corpo dei pesci è protetto da una corazza di squame, piccole scaglie trasparenti di sostanza cornea che si sovrappongono permettendo la flessibilità e il movimento. La brevità del video mi permette di vederlo, rivederlo, ma soprattutto di manipolarlo. Infatti, nonostante sia breve, il video contiene moltissime informazioni scientifiche. Torno all'inizio del video e riparto con la visione. Che cosa vuol dire essere un pesce? Nonostante la varietà, molti pesci hanno in comune alcune... Questa potrebbe già essere una videata significativa. Apro quindi il software della lavagna e passo in modalità telecomando. Questa modalità mi permette di interagire con qualsiasi software non sia nato per la lavagna stessa, quindi in questo caso anche il video. Utilizzo lo strumento macchina fotografica. Catturo un'area rettangolare, per me significativa. Salvo. Per un futuro utilizzo l'immagine. A questo punto torniamo al software della lavagna dove troverò le immagini catturate. Affianchiamo ora le due videate in modo da mantenerle entrambi presenti. Torno al format e visualizzo il testo relativo al video visto. È possibile ascoltare il testo tramite sintesi vocale, renderlo in caratteri maiuscoli, oppure renderlo editabile. In questo momento io posso selezionare parte del testo e trasportarlo all'interno della mia lezione ed abbinarle alle immagini catturate. Apriamo ora il software della lavagna. Questo testo che è stato semplicemente copiato e incollato è comunque testo che io posso modificare arricchendo con nuove immagini, ma anche selezionando il lessico specifico per renderlo più evidente, ricercando se necessario nuove informazioni direttamente in Internet. Dall'interno del format è possibile aprire direttamente il browser e connettersi al motore di ricerca. Prendo la scheda Cerca con Google, inserisco la parola della quale voglio eseguire la ricerca di immagini, premo sul pulsante Cerca ed immediatamente ho l'elenco delle immagini disponibili. È possibile imprendere una di queste immagini, inserirla direttamente all'interno della pagina, dimensionarla, osservarla ed ovviamente aggiungere lessico e spiegazioni alla stessa. L'utilizzo della lavagna interattiva permette di rendere comuni anche attività che prima erano solo individuali. La possibilità di visualizzare un video, catturarne le immagini, rivederne poi assieme, manipolare le immagini stesse ritagliandone poi le parti più interessanti, inserendo il lessico specifico, inserendo le informazioni catturate in internet, fa leva su modalità di ricerca che richiedono competenze all'intera classe e che diventano poi competenze individuali che possono essere spese anche in altri momenti.